Presidente, Fiera Cavalli, uno dei fiori all'occhiello sicuramente di Verona Fiera, è una fiera storica importante. Che edizione sarà questa del 2016 che inizierà giovedì? Siamo alla 118esima edizione, grande manifestazione, manifestazione internazionale perché abbiamo ospiti da più di 80 paesi stranieri e pur essendo molto internazionale è una fiera che è rimasta molto radicata al territorio perché credo che Verona sia la fiera per eccellenza. È una fiera molto sentita dal mondo veronese, dalle famiglie veronesi, è una fiera che punta molto quest'anno come gli altri anni ma in particolare quest'anno sulla parte relativa al turismo e allo sport. Il turismo vorrei ricordare che quest'anno qui a Fiera Cavalli andremo a inaugurare altri 500 km di povie, un progetto voluto dal Consorzio del Suave in collaborazione con noi e con la regione Veneto, si chiama Oswine, quindi un progetto che andrà a scoprire tramite il cavallo 5 zone di produzione di vino, quindi il Suave, il Prosecco, la Pulicella, il Bardolino ed il Custosa, quindi veramente un evento importante che tra l'altro coniuga un po' il nostro mondo, la nostra vocazione territoriale con questo mondo dei cavalli. Abbiamo notato proprio questo, oltre a un ricchissimo programma di eventi, manifestazioni che potranno essere visti sul sito internet direttamente di Fiera Cavalli, il tentativo, lo sforzo di aprire, come così è successo anche per Vinitali, l'evento al territorio coinvolgendolo e creando opportunità di incoming, come ha ricordato poc'anzi nella conferenza. Credo che Fiera Cavalli non è vista come la Fiera del Cavallo, ma è vista come uno strumento per poter fare incambi nel nostro territorio, un veronese, veneto e italiano. Vorrei ricordare un altro progetto che qui a Verona è nato tramite la funivia di Malcesine e quindi è stato mappato un'altra ipovia, l'ipovia del Baldo, fatta appunto dai Fiera Cavalli con il via di Malcesine e la regione Veneto e anche quello crediamo che sia veramente una perla che inserita all'interno di questa proposta turistica con il cavallo sia veramente importante. Non ci resta che vederci quindi giovedì fino a domenica, ricordiamo, 13. Da giovedì a domenica 13 e le notti fino a mezzanotte. Grazie. Prego, grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.